Nell'ambito alimentare, tra i professionisti del settore medico nutrizionale, ci sono tantissimi esempi, splendidi esempi soprattutto ultimamente, di professionisti empatici con il percorso del proprio paziente. Anche se ci sono ancora esempi, molti esempi di professionisti che non hanno questa empatia verso l'ascolto. Sottolineando sempre l'importanza di affidarsi a medici, nutrizionisti competenti per qualsiasi scelta noi vogliamo fare, è importante scegliere professionisti idonei al nostro percorso. Medici, nutrizionisti, dietisti o semplicemente esperti del settore che hanno un'idea ideale dogmatico, che hanno un ideale non aperto, non integrato, trovano spesso più che dei pazienti dei veri e propri discepoli, delle vere e proprie persone che dipendono dalla loro opinione, che perdono la propria capacità di ascolto verso se stessi e che si affidano completamente. Spesso i professionisti non si rendono conto di questa dinamica, non si rendono conto di creare delle dipendenze, delle dipendenze salutistiche verso queste persone che lasciano carta bianca senza rendersi conto dell'importanza dell'unicità dell'individuo. Solitamente ci sono proprio dei protocolli a sé stanti, concedetemi il termine, a fotocopia per chiunque. Spesso quelle persone che rimangono deluse da professionisti del settore medico nutrizionale si vanno ad affidare ad altri tipi di persone, magari senza titolo, considerati alla stregua di guru della salute, che ancora più spesso dei medici vengono poi puntualmente criticati e tacciati di dare false informazioni, proprio perché la persona passa semplicemente da una dipendenza all'altra, da una dipendenza magari professionale ad una meno professionale. Il problema spesso infatti non sono né i professionisti né i non professionisti, ma è la nostra de-responsabilizzazione, è la nostra de-responsabilizzazione della nostra salute, del nostro benessere, del benessere di chi ci circonda e de-responsabilizzandosi chiaramente diamo le chiavi a un'altra persona di guarirci e ciò non è possibile. L'altra persona che abbiamo di fronte, che ci può aiutare sicuramente è un mezzo, è un mezzo come può essere un'alimentazione ideale, come può essere qualsiasi altra cosa che ci aiuti a stare meglio, però non possiamo dare, non possiamo affidare a lei la responsabilità totale di ciò che noi poi abbiamo come aspettativa. Ognuno di noi è artefice della propria salute e delle proprie esigenze, continuando a fare un discorso di etichette, di giudizi, di de-responsabilizzazione, non troveremo mai, non troveremo mai il nostro centro in questo senso. Ognuno è in viaggio in punti differenti, da infinite sfaccettature differenti. Come può esserci una cura o un'alimentazione o un rimedio uguale per tutti? Quando si ha bisogno per una serie di circostanze di avere dei pareri, dei pareri professionali, è importante che questi pareri professionali quindi siano dati nel pieno ascolto del paziente, nel pieno ascolto di ciò che abbiamo bisogno di condividere con il professionista e in modo presente, in modo attivo. Un approccio fruttuoso è anche quello di prendere da qualsiasi situazione, da qualsiasi professionista che troviamo, prendere ciò che di utile può essere per noi, per la nostra salute, per la nostra storia in questo momento, forgiando il proprio percorso sulla base del benessere che si prova al momento. Ognuno di noi ha la propria idea di giustizia e ogni giustizia ha i suoi compromessi. Non siamo tutti uguali neanche nell'interpretazione del concetto di giustizia infatti, perché è un concetto duale di bene e male. Rispettiamoci dando il meglio di noi stessi ogni giorno, senza puntare il dito, senza giudicarci. Si cresce confrontandosi, trasformandosi e mettendosi sempre in gioco e quindi in sostanza non smettiamo mai di crescere.